Con le esperienze di integrazione riuscita in alcuni centri irpini e sanniti si chiude il nostro viaggio nel pianeta immigrazione. Il viaggio nel pianeta immigrazione in Campania oggi ci porta in Irpinia e nel Sannio, in piccoli comuni in cui si sperimenta una sana integrazione. Geo Nocchetti. Quando dalla Svizzera lei è arrivata qui era un paesino diciamo popolato. Sì, c'erano molta gente, molto ragazzi. Poi se ne sono andati quasi tutti. Sì, sempre per il lavoro. E ora sono arrivati gli immigrati che hanno ripopolato il paese. Sì, io sono felice, spero che rimangano qualcuno qua. Chianche, primo paese della provincia di Avellino a pochi chilometri da Benevento, sono rimasti in 400 e grazie al progetto Sprar del Comune e alla cooperativa Tralci di Vite, cittadini del posto e immigrati tengono in piedi l'unico negozio di alimentari. Mi trovo bene qui? Questo volontariato non è servito solo a un'esperienza mia personale, ma soprattutto non solo per insegnare loro qualcosa e quindi per riuscire ad ambientarsi meglio, ma anche per restringere dei rapporti umani. Ci sono dei ragazzi che adesso non ci sono qui, che hanno cambiato zona, con i quali io sono ancora in contatto. Qui svolgiamo tutte le attività riferite al progetto, corso di affalbetizzazione, corso di educazione civica, laboratori formativi come quello di tagli e cucito, attacca a bottone, tenuto da una volontaria. Da Chianche a Castelpoto, altro comune che partecipa al progetto Sprar, qui grazie ai bimbi degli immigrati l'asilo che stava per chiudere continua a funzionare egregiamente. Frequentano questa struttura anche i figli di Ahmed, ganese, 40 anni, moglie e tre figli. Ha fatto un corso per viticoltore e ora lavora nella cooperativa. Molto buono, molto comodo. La gente? Bellissima. Abbiamo messo in piedi un approccio bidirezionale, accoglienza da un lato e vantaggi per la popolazione locale e per l'economia locale. Si chiama il Sale della Terra ed è un consorzio di cooperative agricole, sociali e di comunità. Il punto di vendita di Benevento e crocivia di cittadini locali, stranieri, operatori, rappresenta la vetrina e la dimostrazione fisica di quello che produce una concezione sana dell'integrazione, partendo dal presupposto che... L'accoglienza è nei piccoli numeri ed è quello che racconta il nostro progetto, quello dei piccoli comuni del Welcome, dove c'è un'integrazione tra ultimi e penultimi. Persone che hanno fragilità psichiche, fisiche, migranti, persone che hanno disabilità. Grazie a tutti.